Giallo detto da Di Maio, denunciato da Di Maio Questo pure, è veramente surreale, è una mescolanza tra verità e pseudo verità, tratti formali e fake news Insomma il paese ne sciarpezzi, l'idea, il condono c'è e non c'è, non c'è ma poi c'è Ah ma allora se c'è noi non c'eravamo e chi ha firmato? Il Colle dice io non ho visto niente E' veramente un teatrino istituzionale che mancava nel nostro paese Forse è anche un po' più simpatico rispetto ad altre pagine bure del nostro paese Ma certo non è rassicurante perché io faccio l'esempio, io come sindaco di Napoli Ogni sera, ogni notte concludo la giornata per vedere se dal governo arriva qualche segnale per i diritti, per le città Se tu ascolti una frase che ti sembra vera perché la dice un esponente del governo Fanno una conferenza stampa, dicono e tolgono i test a medicina e poi scopri che invece non è così Oppure il condono non riesce a capire qual è la versione, quella di Maio, quella di Salvini, quella di Conte Ci affideremo a Crozza, vedremo Crozza che dice e prenderemo le nostre conclusioni